Prego, il secondo arrivo del Bari, Antonio Guido, Corriere dello Sport Me lo auguro, mi hanno detto che il Sud era come tempo bello, si stava bene, però qui ho trovato la neve, mi fa freddito Mi ricordo al Nord, arriveranno anche i tempi belli qua Sì, infatti sono contento di essere qui perché so che questa piazza pretende tanto, chiede tanto, io sono qui apposta perché ho voglia di mettermi in mostra, di giocare Ho passato sei mesi, non fermo, però non ho giocato e quindi sono voluto scendere e venire a una piazza così prestigiosa come Bari Dove in tre anni di serbì non sono mai venuto, per diversi motivi, o nazionale o infortuni, quindi sarà ancora più bello per me Mai giocato? No, è la prima volta, anzi sarà la prima volta Chiedo, chiede l'illusione? No, 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 assolutamente, sono scelte tecniche, sono contento comunque di aver fatto parte di quella società, una società molto seria Piccola ma molto, molto seria davvero, sono contento di aver passato sei mesi lì, anche se ne ho giocato pochissimo, ma ringrazio tutta la società Il Bari ti cercava già a giugno? Sì, ho avuto la richiesta di Bari anche in estate, però ho provato a stare in Serie A Secondo me, dopo questi sei mesi che ho giocato, ho capito che forse dovevo passare un altro step dalla Serie B e quindi ho accettato di venire a Bari a gennaio Che cosa li ha convinto? Mi ha accettato, diciamo, la piazza, una piazza ambiziosa, con tanti tifosi che, come ho detto prima, pretendono tanto Io ho sempre cercato piazze così, sono stato due anni a Perugia con un tifo bellissimo, penso uno più bello della Serie B insieme anche a Bari e tante altre Quindi non ho esitato ad accettare subito Questo ti è mancato a Chievo, cioè, perché non sei riuscito a ritagliare uno spazio secondo me? Ma, non lo so, forse anche ero condizionato dal modulo perché non sono proprio una seconda punta o una punta, ecco Però, queste sono scelte nel calcio, ognuno fa le proprie scelte, io sono stato a disposizione fino all'ultimo Le mie tre presenze le ho fatte, ringrazio il Ministro per avermi le fatte fare, ho imparato tanto anche negli allenamenti Però, ecco, come ho detto prima, mi manca forse uno step in più che lo passerò qui forse in sei mesi E niente, spero di far bene Sì, sì, io sono nato più da esterno, sono un esterno offensivo, o nel 4-3-3 o nel 4-4-2 Se il Ministro dovesse giocare con tre quartisti, due punti, o due tre quartisti e una punta, posso farlo benissimamente Perché a Chievo l'ho fatta, quindi non ho problemi a farlo Senti, in Italia si parla tanto, no, dei giovani, dei giovani sui giovani Poi, quando si hanno dei parenti, e tu sei uno di questi, perché tu sei anche anche il 21 Quindi, rischiamo di perdere un posto, poi nel Torino e nel Chievo hanno chiaro utilizzato Ecco, è solo un modo di dire o proprio sui giovani in Italia non si riesce proprio a prendere più? Non è vero, ultimamente i giovani in Italia stanno giocando tanti Vediamo l'Atalanta, vediamo ha esordito anche nella Juve un 2000 Nel Genoa anche lì un 2000 Piano piano stanno uscendo fuori tanti giovani Io sono stato poco utilizzato al Torino, ma non perché è stata una bocciatura del mister Mijalovic Come lo vedono tutti, a Torino ci sono grandi giocatori Io avrei trovato pochissimo spazio, ne ho trovato poco anche a Chievo, ma quelle sono purtroppo anche fortuna che devi trovare Non è che non mi ha dato, io ho fatto una scelta Potevo andare in tante altre squadre di Serie A, ma sinceramente avrei trovato pochissimo spazio Non avendo giocato sei mesi prima, chi è che mi avrebbe fatto giocare giustamente? Quindi ho avuto io scendere di categoria e mettermi a disposizione sei mesi qui Gioco qui pensando a Bari, Torino se ne parla a giugno In carriera hai avuto due allenatori che peraltro sono stati a Chiesa Biancolossi, Camplone e soprattutto Malam Avrei avuto modo di sentirti, ti sei confrontato più volte anche sull'argomento di Bari, penso soprattutto a Malam No perché a Chievo non sapevo ancora di venire qui a Bari E' stato deciso tutto all'ultimo quando io avevo già lasciato Chievo da un giorno Quindi purtroppo non ho parlato con Malam di Bari Mi ha chiamato Camplone perché mi voleva a Cesena e quando ho accettato Bari mi ha chiamato e mi ha detto Che è una piazza importante e che farà il caso mio perché posso esaltare le mie qualità qua Quindi ringrazio anche Camplone per le belle parole che ha fatto su di me in qualche intervista E niente Senti, ti rituffi in B, che campionato trovi? E' un campionato tu? E' un campionato equilibrato Sinceramente l'ho seguito poco perché stando su guardavo poco Però penso che sia un campionato equilibrato Stiamo lì lì ma noi adesso pensiamo alla prima partita del Cittadella E' una partita difficile Quindi piano piano cercheremo di recuperare i punti che avevano perso all'andata Per stare su perché penso che questa squadra possa stare solo su perché ha grandi giocatori Sono giocatori di tanto esperienza Quindi penso che il Bari possa far bene in questi sei mesi Franco Sì anche a me il Cattolo mi ha fatto molto bene perché mi ha chiamato e mi ha detto solo cose buone Soprattutto della tua utilità Ti ho utilizzato anche la pinto di centrocampi Voi giocate la domenica Questo è già importante Ma adesso Parincini che cosa vuole da se stesso? Cioè tu hai fatto due campionati In B col Perugia Di fare 4 e 4 4 gol e 4 gol Sì Ricordare il gol E' una Juve Stabia Prima Juve Stabia Poi c'è stato questo passaggio comunque di esperienza Al Chievo Questo è il momento del salto di qualità Oppure lo prendi come prima come un altro step L'ennesimo step prima di schizzare Volevo dire in Serie B si può dare il salto di qualità La Serie B secondo me è un trampolino di lancio Io secondo me ho azzardato forse la scelta in estate Dovevo forse passare prima a fare un altro anno di Serie B Ma non perché non ero pronto per la Serie A Perché nell'anno prima Perugia ho avuto diversi infortuni E sono stato tanto sfortunato Quindi secondo me fare un altro anno di Serie B In una grande piazza come magari Perugia, Bari e tante altre Secondo me era meglio Però ho voluto azzardare io la scelta A provare a andare in Serie A Non dico che ho fallito Però secondo me ho azzardato ecco la scelta C'è anche una situazione un po' particolare Da quello che vediamo da lontano Il Chievo è una squadra fatta da tempo E sono quelli C'è poco spazio per eventuali testi nuovi Ci ho pensato poco perché Ho avuto la chiamata del Chievo Ci ho pensato poco Ripeto, sono stato benissimo in sei mesi Lo rifarei Tornassi indietro lo rifarei perché sono stato bene Però ecco Ora sono qui Penso a Bari Mi ha detto qualcosa di particolare con l'Ampone Cioè Hai cominciato a darti un consiglio Qualcosa commenta Ma lui mi ha chiamato Come mi ha chiamato anche il direttore Sogliano Vi dico la verità Mi ha convinto il mister in dieci minuti di telefonata Mi ha fatto sentire già di Bari Ecco quindi Non ho esitato a dire subito sì Sono contento che mi ha chiamato Sono contento di essere qua E spero di dare il mio contributo alla squadra Sai che ho pensato Appena ho visto Siccome avevo davanti agli occhi In maglia di Cristiano Ronaldo Che è stato premiato ieri Con questi due orecchini Che schizzavo da tutte le parti Che ho visto E ho pensato subito a Cristiano Ronaldo Tutti e due Come mai Tutti e due Dico Dice gli orecchini Tutti e due Come a lui Non so se qualcuno vuole tu Bellezza Non so Bellezza Mi piacciono gli orecchini Come anche i tatuaggi Mi piace tutto quello che piace ai giovani diventando Esatto Vittorio tu sei di Moncangieri Torino è una città Praticamente al 80% di persone Che arrivano dal sud In particolare da Bari Dalla Puglia Che cosa conosci Anche attraverso magari persone Che molti di lavoro sono a Torino Di questa terra Di questa città Non soltanto Da tutto il calcistico Sinceramente ho degli zii qua Dalla parte di mio nonno Di mia mamma Mi hanno detto che Mi hanno detto che si sta benissimo Si mangia molto bene Devo ancora provare Perché adesso sono in hotel Ne ritiro Quindi Proverò anche queste delizie di Bari Vicerino o espressino? Che qui si usa No? No Ha dei zii a Bari Però Sì ho dei zii a Bari Sì sì Tu sei la regina del fine Sì Mia mamma Mia mamma e mia sorella Sì Vittorio tu sei nel gruppo Dell'Under 21 Che insomma Il prossimo giugno Si gioca una vetrina importante All'europeo E tu insomma Di questo gruppo Fai parte ormai In maniera stabile Quanto Diciamo In questi sei mesi punti Ad essere Una pedina fondamentale Nella rassegna continentale Perché quella sarà insomma Un momento importante Per le nostre azioni Ma Penso che Essere convocato Per gli europei Sia una cosa Bella Quindi la scelta anche Di scendere È stata quella Che giustamente Io ho parlato anche Con il ministro della nazionale Lui mi ha detto che Se non gioco Giustamente Fa fatica a portarmi Anche se conosce Diciamo il mio talento Come mi alleno Però Conta poco Io quindi ho fatto Una scelta di vita Perché Ho pensato All'europeo Ho pensato A me stesso Ho pensato Di mettermi in mostra Di giocare Poi sono un ragazzo giovane A me Se vado in Serie A Fra due anni O fra un anno O fra dieci Conta poco Adesso mi conta più giocare E farmi vedere Ecco Il Serie A con quanti gol Ti puoi presentare Ma essendo che mancano Sei mesi Punto a dieci gol Ecco Punto a dieci gol Punto a dieci gol E giocano attaccanti Sono attaccanti Vivo di quello Quindi provo a farne dieci Maggiorini ti ha dato qualche consiglio Su Bari No ripeto Nessuno sapeva Della mia scelta di Bari Io avevo tante altre squadre Quindi Chi diceva Benevento Chi diceva Bari Chi diceva Cisena Atalanta Di Pescara Quindi Io fino all'ultimo Non ho detto niente Per Pescara Anzi Ecco Poi Di Biagio Ha continuato a chiamarti sempre Sia quando Di Biagio Sia quando giocavi poco Sia quando Hai avuto qualche infortunio Certo Sì sì Ma io Ringrazio il mister Di Biagio Perché mi ha sempre convocato Nonostante Giocavo poco Gli infortuni Non stavo in condizioni Quindi Un grazie va anche a lui Quindi Quello sicuramente Sarà fatto In tua breve storia calcistica Qual è un passato Chiaro Qualcosa Che ti va evidenziata Diciamo Un personaggio Che ti Ti ha aiutato molto Qualcosa Diciamo Per capire Chi è Parigi Da dove viene Un personaggio Posso evidenziare Le due annate a Perugia Che sono stati I miei trampolini di lancio Sicuramente Quello Lo devo Lo devo a Perugia Lo devo ai compagni A uno in particolare Taddei Che mi ha sempre dato consigli Mi è sempre stato vicino Poi ci sono stati tanti altri Però Taddei Sendo che ce l'avevo vicino di posto Era sempre lì A darmi Un consiglio Una mano Quindi lo devo anche a lui Grazie Ma non so se avete visto Tante mie interviste Non è che mi ispirò A A uno in particolare Guardo il calcio Ma non ho uno in particolare Ecco Sono sincero Sì Ispira a Parigi Si volete diventare Banale Cristiano Ronaldo Ma è irraggiungibile Ecco Giangelo Però non ha tatuaggi Non ha tatuaggi Lui non ha tatuaggi Messi ha tatuaggi Cristiano Ronaldo Ma qualcosa meno di te Però Io non lo so Mi ha detto Mi ha detto che facevo parte Del ritiro Mi ha detto che facevo parte del ritiro E poi stava a me Di mostrare Di stare lì Sinceramente Mialovic non è che mi ha detto Non sei pronto Sono stato io Ad andare via Perché vedendo anche La concorrenza che era davanti Era tanta Poi sinceramente Non stavo ancora benissimo A livello fisico Perché stavo ancora rientrando Dall'infortunio che ho avuto a gennaio Dell'anno scorso Quindi non la prendo come bocciatura Anzi Ringrazio Mialovic che mi ha chiamato per il ritiro E spero di tornare a giugno Scusami Invece Non è una domanda tendenziosa Le tue condizioni fisiche Ci sono perfetti Ottimali Perché qui a Paris Non può benissimo No no Sono al 100% Ok Mi manca minutaggio nelle gambe Quello si sa Però Non è un problema Problemi muscolari Fisici Zero La sensazione che si ha Dando un po' Oltre le parole È che Se con Antonio Ti mette una volta in panchina Ti mangi la panchina Nel senso che Hai tale rabbia Hai tale voglia Di giocare Che non prendi nemmeno In esame La possibilità Di star fuori Cioè tu sei venuto Per tornare Ad essere protagonista Io sono tornato Ad essere protagonista Ma se dovessi mai andare In panchina Uno o due partite Sinceramente Non creerei problemi Sì Mi dispiacerebbe Perché ho la voglia di giocare Ma se mi fa entrare Cinque minuti Dovrò per cinque minuti Quello che ho Sono qua per aiutare la squadra Non per essere Una grande carica Una rabbia Sì Quello è sicuramente In sei mesi Ne ho tante Di rabbia Ho voglia di giocare Però Se non dovessi giocare Per una partita o due Non farai Anzi Aiuterei i miei compagni Che sono dentro In campo In panchina Ci sta benissimo No non è vero Sarebbe più difficile Per me Perché a calciare Sul sinistro Sono meno forte Del destro Però Punterei a fare Anche lì Una sfida Con me stesso Dieci Tutti di piede Dieci gol Va bene Anche di tacco Di spalle Grazie Grazie per la pazienza